Gli uomini della polizia stradale di Cassino hanno sequestrato 1200 occhiali da sole e denunciato due cittadini marocchini. Il tutto è avvenuto durante un controllo al casello autostradale della città, dove gli agenti operanti, dopo aver riscontrato alcune irregolarità amministrative relative all'auto, hanno deciso di approfondire. Le irregolarità ed il crescente nervosismo da parte dei due stranieri hanno portato i poliziotti ad aprire il portabagagli e gli sportelli posteriori dell'auto, dove sono stati trovati gli occhiali da sole di vari modelli e colori a marchio Ray-Ban. Oltre agli occhiali sono state trovate anche 4.500 targhette adesive, su cui venivano riportate le caratteristiche protettive delle lenti. Il tutto era palesemente contraffatto. I denunciati, un 35enne ed un 28enne, sono accusati di introduzione di merce con marchio contraffatto. Gli occhiali sono stati sequestrati. Una operazione questa che ha sventato l'immissione sul mercato di migliaia di accessori potenzialmente dannosi per la vista, nonostante le etichette che accertavano la qualità delle lenti.